Ad oltre un mese di distanza dall'omicidio di Katia de Lomarino prosegue la caccia al suo assassino. Era il 12 luglio scorso quando la quarantenne è stata uccisa brutalmente e gettata sul greto del torrente Afra a Sansepolcro. Sul corpo evidenti e declatanti segni di violenza, come confermano gli investigatori, di colui che l'ha uccisa e che si è accanito su di lei in maniera quasi maniacale. Circa 200 i nomi di coloro che saranno sentiti dagli inquirenti. La maggior parte di questi hanno avuto rapporti più o meno fugaci con la vittima ed erano infatti trascritti all'interno dell'agenda di Katia. Tutti saranno sottoposti alla prova del DNA per individuare Ignoto 1. Intanto una traccia di Katia arriva dalla videosorveglianza. In località San Giustino la sua auto, una Citroen di colore rosso, è stata ripresa mentre transitava verso Sansepolcro dopo che la quarantenne era stata controllata a lama dai carabinieri, allertati dal parroco del paese a cui la donna aveva chiesto dei soldi. Poi dalla mezzanotte il nulla, l'omicidio infatti viene collocato tra la mezzanotte e le 3.30 del mattino. E proprio dalla frazione di San Giustino, dove si trova il bar Quentro di Selci, sono arrivati i primi gesti di solidarietà per una famiglia così brutalmente straziata. Sono stati raccolti alcuni fondi consegnati alla famiglia di Katia a conferma dell'affetto e della familiarità di cui godeva la donna. Era in programma anche una fiaccolata in memoria della quarantenne rimandata a causa del periodo di ferie, ma che sarà certamente organizzata quanto prima.